via e chi ha malato questo video? si acce Aurora, Ludovica, vi prego, aiutatemi non so dove sono, non so dove mi trovo so solo che non vogliono che esca la nuova fantastica canzone dell'estate vi prego, aiutatemi andate agli studios, cercate il pianoforte e suonate alcune notte del nuovo brano solo così potrete ottenere e poi stanno arrivando per favore, non arrendete mai che cosa? mi Aurora, Aurora, ho trovato un altro indizio mi dove sono le lettere di prima? questo? ma non ha senso im no, forse così im imi imi prima però avevi trovato anche un'altra no, la U tu avevi trovato la U dov'è la U? mi dai la U? da ma forse non è che sono tipo i testi di qualche Ria imita 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 che cosa? imita Rian imita no aiutami c'è anche la U non solo la tu un attimo proviamo ricomponi tutti i allora i mi allora i mi a no ca aspetta aspetta aiutami 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 semmai aiutami aiutami no aiutami 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 certo che è strano però è c'è questo posto è buio ma la porta è aperta c'era anche un foglio con scritto lavori in corso ma dove? dove? Aurora lasciamo i biettini qua e Ria cerchiamo di trovare l'ultimo b Ria Aurora vieni qua oi che non Ria Ria Aurora Aurora te 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 Ludo io sono brava a ricomponare no non è vero non è vero allora ti ti posso fare io? te aspetta b u no dammi i aspetta fammi la i te u i ta no allora te 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 u te u no Ludo dammi te u te u ecco te u i è u vabbè cerchiamo altri biglietti altri biglietti e se non ce ne sono? fammi fare ma se si provasse a chiamarlo? no no cavoli non c'è il numero ma il telefono ma il telefono là e rian non c'è allora aspetta mamma mamma allora mi mi tu intanto io te mi mi ta u u u u mi piace allora i foglietti li vado a prendere aspetta ecco ha senso allora ho capito aiutatemi non è che la scrittoria è ovvio non è che è certo che la scrittoria sennò l'avete pure in chiamata ma perché strappato beh perché forse qualcuno l'ha strappato è blu non è che è un inganno ed ha scritto mister boo visto che è in blu vabbè forse liana non lo sa che forse mister boo ha rapito ria non si fa vedere tanto mister boo di la chitarra allora però mister boo non si fa vedere da tanto beh hai ragione luto ma non è che questo è un modo per non farci fare più canzoni visto che non ci odia così tanto aurora e forse l'ha chiarato con barba lunga eh no adesso è quella che non mi lascio fregare è scritto in blu eh è scritto in blu mister boo se fosse una trappola anche puntini sono blu se fosse tutta una trappola perché anche la chitarra è una blu esatto però ragioniamo su questi punti che cosa vorranno dire questi pulsanti blu forse è così forse sono le impronte di Rian che stava componendo nella nostra nuova cazzone non lo so ma non credo così così guarda no aspetta dobbiamo ascolare qualcosa no allora calma no un attimo e questi sono i nostri colori i nostri colori del titolo aurora aurora azzurro io sono azzurro aurora manca il giallo però che significa il giallo il giallo è la E aurora azzurro azzurro dov'icara azzurro ricomporre la nostra la nostra ecco la nostra nuova canzone mi sembra di rivivere la stessa scena di quando hanno rapito mamma aurora ma non ci distraggiamo dobbiamo trovare Rian sì hai ragione forse è meglio non distrarci con questi braccietti il nostro obiettivo è trovare Rian di cui abbiamo anche trovato un atto indizio aiutatemi ok anche se sinceramente Ludo questo posto così tutto buio che di solito è tutto illuminato mi fa un po' di paura ma noi non ci facciamo spaventare da queste cose tu ti arrendi no perché noi non ci arrendiamo mai noi siamo gli unicorni grande esercizio del cuore oh santo c'è l'ho perché siamo vestite perché siamo vestite in questo modo se prima avevo una manietta zulla ero un jeans con il titolo adesso ho un pannone guarda questa giacca aspetta ragioniamo tu hai suonato la canzone in questo modo sono comparsi questi braccialetti li abbiamo messi vicini e siamo vestiti così sì ma i braccialetti come sono comparsi non si spiega perché noi abbiamo fatto la canzone canta con noi abbiamo suonato abbiamo è vero abbiamo suonato un pezzo della nostra canzone balla con noi canta con noi non è che forse siamo vestiti così balla con noi noi quando abbiamo fatto la prima videoclip stavamo vestiti troppe cose li si insieme Rudolf so solo una cosa so solo una cosa che dobbiamo fare adesso trovarì ok vediamo se qui c'è iniziamo prima da presto iniziamo prima da presto liran liran siamo aurora iniziamo vabbè e vediamo qua ora andiamo la mia ma non si apre ah ma qua è il posto dove veniamo a fare a registrare la canzone ok aurora che cosa è quella cosa andiamo di là c'è un foglio andiamo di là andiamo di là un attimo c'è un foglio va di là eccolo leggo un attimo cosa è non lo troverete mai ah 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 non lo troverete mai ah 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 allora vuol dire è anche in blu ma lui allora perché no aspetta avrò una perché in blu questo vuol dire due cose uno che non è qui due che l'hanno rapito non lo troverete ma perché poi è scritto in blu ok qui non c'è dobbiamo andarlo a cercare da qualche altra parte proviamo a guardare qui fuori vediamo se c'è forse dietro una macchina legato tu che ne sai luto ho capito tutto prima questi braccialetti ci hanno fatto unendoli ci hanno fatto trasformare non lo so i rockstar credo non è che forse unendoli potremmo trovare Ria poi c'è se uniamo le nostre forze potremmo trovarlo veramente infatti ora questi sono vestiti da rockstar poi ci siamo vestiti come abbiamo fatto la prima videoclip è vero beh se ti ricordi il titolo della nostra videoclip è l'esercito degli unicorni noi insieme ai nostri unicornini potremmo trovare Ria se uniamo questi bracciali potremmo trovarlo veramente dobbiamo unirli un'altra volta poi se non funziona rimaniamo così non lo so andiamo lì oh si sono rinunato si sono rinunati i bracciali Rian Rian oh oh santo cielo Rian Rian dove sei? da dove viene? Rian Rian no no qua abbiamo già visto prima Rian 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 santo cielo Rian dove sei? Rian dove sei? Rian come ho visto prima? Rian 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 oh signor io ruolo io ruolo aiuto io ruolo ma come hai visto? Rian ho santo cielo toglie ragazze liberatevi vi prego non mi toglie ok Aurora mi prego ho santo cielo grazie 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 mi avete trovato mi ha preso qualcuno non so chi fosse so solamente che volevo non uscirse il nuovo fantastico brano dell'estate Aurora Ludovica Rian possiamo sapere cosa ti è successo? ragazze scusate mi sono davvero un po' sconvolto io non so cosa sia successo so solo che mi hanno portato via in questo posto strano e ho capito che volevano che non uscisse la nuova fantastica canzone dell'estate la vostra canzone ok allora facciamo una cosa andiamo via per fortuna ti abbiamo trovato messo via Rian scappiamo ok andiamo muoviti 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 via via andiamo corri noi siamo gli unicorni grande esercito del cuore se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale noi siamo gli unicorni beh vieni a cantare con noi oh 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 no